La Salernitana rivoluzionata e rivisitata in toto da Sabatini fa vedere i sorci verdi allo Spezia ma non basta per portare a casa quei tre punti che sarebbero stati fondamentali per iniziare la rimonta salvezza e soprattutto per dare morale a questo gruppo che ha dimostrato di essere entrato subito in sintonia con quella che è la mission a quali sono stati chiamati questi nuovi calciatori che sono stati scelti da Sabatini e da Ervolino per tentare l'impresa salvezza. Giocando sulle parole insomma sorci verdi perché effettivamente nel primo tempo l'ex giocatore del Torino è stato devastante, ha realizzato due punizioni, due gioielli da applausi che sicuramente nei prossimi giorni diventeranno virali, faranno discutere chi magari ha un pochino snobbato questo calciatore che ha vissuto a Torino momenti per un periodo difficile per via dell'infortunio. Però come ha fatto notare almeno in questa prima esibizione in Maglia Granata ha tanto tanto da dire e può veramente far compiere un salto di qualità alla squadra con gli altri elementi che sono arrivati a fine nella fase invernale della campagna trasferimenti. È chiaro che non tutti potevano essere al meglio della condizione e c'erano alcuni che non giocavano veramente da tempo. Vedi Fazio che nel primo tempo ha fatto un po' fatica e purtroppo da un suo errore è nato il primo rigore del primo pareggio dello Spezia. Ha avuto anche qualche altra defiance però nella ripresa è cresciuto alla grande ed è stato decisivo su alcune chiusure. Quindi lascia poi ben sperare che per il futuro quanto fatto nella ripresa sicuramente con una condizione migliore il comandante dirigerà il reparto arretrato Granata. Anche Radovanovic che non giocava a maggio ha fatto un'onesta partita, una buona partita con il mestiere, con la garra e ha portato a casa sicuramente la pagnotta. Onestamente tutto da rivedere Mussè non mi ha convinto però parliamo anche di un giocatore che viene da un altro che ha assaporato per la prima volta la platea del calcio italiano che hanno gettato forse frettolosamente secondo me nella mischia da Colantuono che avrebbe dovuto fare altre scelte. Dovremmo capire questa questione di Bonazzoli, quali sono stati questi problemi che lo hanno afflitto durante la settimana e hanno spinto il tecnico ad effettuare questa scelta tecnica di spedirli in tribuna. Lui non è entrato nel dettaglio, ha parlato di una settimana un po' problematica, non sappiamo se sono per problemi personali o è successo qualcosa all'interno dello spogliatoio. Vedremo, cercheremo di capire perché Bonazzoli è il capocannoniere della squadra e sarebbe tornato molto utile in una partita con lo Spezia, così probabilmente avrebbe stato più opportuno iniziare almeno con l'usato sicuro di Ulrich per poi dare spazio a Michael o a Musset in una situazione di assalto all'arma bianca. Però sono state fatte scelte diverse, discutibili anche onestamente. Onestamente la scelta di tenere in campo Ribery per oltre un'ora, noi pensavamo che con, io almeno pensavo che con i nuovi innesti ci sarebbe stata una gestione diversa di Ribery o un ingresso a partita iniziata per dare la possibilità con un avversario più stanco di liberare il suo estro, magari diciamo di trovare la giocata sull'uno contro uno trovando avversari un pochino meno in debito d'ossigeno. più in debito d'ossigeno, però con l'antuno ha fatto una scelta diversa è proseguito più o meno sulla falsa riga di quando ho visto Giovanni il girone di andata e onestamente Ribery già a metà primo tempo non è che a parte l'occasione, la punizione che si è procurata per il vantaggio iniziale di Verdi poi è andata a sbattere a volte anche contro i compagni dispiace dirlo perché parlavo di un grande campione ma faticavo a trovare la posizione e faticavo a trovare anche qualcun altro in mezzo al campo anche lo stesso Castanos che poi il tecnico ha scelto di giocare con le due mezze punte Verdi e Ribery Castanos è anche un giocatore che più o meno potrebbe anche adattarsi a quel tipo di ruolo e non è certamente un mediano metodista o comunque un centrocampista un playmaker vecchia maniera quindi anche lui ha faticato nel primo tempo a trovare la posizione e con tutte le conseguenze del caso nel resto se visse la sarnitana faceva veramente fatica a costruire la manovra se non per guizzi estemporanei di alcuni giocatori per i di Verdi poi nella ripresa è andato un po' meglio quando si è ordinata la squadra però con l'ingresso di Diuric però ovviamente tenere in campo Ribery per oltre 60 minuti onestamente è stato delittuoso perché si vedeva proprio già ripeto già a fine primo tempo il cambio poteva esserci almeno la staffetta con Perotti avrei fatto una staffetta con Perotti a fine primo tempo e invece niente tecnica ha voluto aspettare ha fatto entrare secondo me Mike Michel anche un po' tardi non lo so ci voleva certo per vincere questa partita un po' di coraggio alla fine con l'antuno temeva anche di perderla perché credo che abbia fatto entrare Jomber al posto di Mazzocchi non tanto per il fatto che poteva sfruttarlo del gioco aereo perché poi Jomber non è che ha tutta questa confidenza col gol almeno non l'ha dimostrata durante questa esperienza salernitana dove in Serie B sicuramente ha fatto intravedere ha messo in mostra grandi dosi della difensora un po' meno diciamo nella prima fase del campionato di Serie A ma più che altro lui temeva forse di perderla proprio la partita perché ha preferito spostare Drausin a destra e tenere un giocatore un po' più bloccato perché Drausin a differenza di Mazzocchi spinge molto meno non ha voluto rischiare né Zortea né Ketschrida perché evidentemente non si fida della loro fase difensiva e temeva che su quella fascia sarebbe rimasti troppo scoperti ma è chiaro che ci vuole anche un po' di coraggio per la salernitana ha bisogno di punti quindi voglio dire sì punticino muove la classifica magari con la sconfitta l'ambiente sarebbe stato ancora più devastato però non è che si va lontanissimo così in ogni caso più che la sostituzione di Mazzocchi ripeto sono state le scelte precedenti che non mi hanno convinto fatto sta che dopo questa partita dopo quanto ho visto sicuramente la posizione di Colanturo non è saldissima non so se al risveglio Sabatini farà altre valutazioni già nell'immediato o aspetterà la decisiva partita di Genova contro il Rosso Blu che è praticamente è un match vita mia morte tua come si vuole dire con la salernitana che per rilanciarsi deve vincere agganciare Genova che è il primo avversario che tiene nel mirino e poi deve puntare mano a mano cioè come una rincorsa di un ciclista man mano deve riprendere chi è avanti in questo momento l'obiettivo più vicino è il Genova e c'è questa partita questo scontro diretto che dà la possibilità di riagganciarlo e poi vediamo cosa fanno le altre squadre bisogna una partita alla volta non è che ovviamente si possono fare chissà quali voli pindarici o tabelle particolari arrivare però bisogna capire come ci si arriva a questa partita perché se si arriva con le idee un po' ancora confuse sia sotto l'aspetto tattico sia per alcune per quanto concerne la posizione di alcuni giocatori va chiarita subito la questione buona azione non si va da nessuna parte quindi credo che sarà fatta una riflessione anche sulla posizione di Colantuno non so onestamente non so se non penso venga richiamato Castori credo che poi Sabatini se decidesse ma ripeto queste poi sono valutazioni che in questo momento voglio dire ci possono anche stare però probabilmente Sabatini è tentato da concedere un'ultima chance a Colantuno se stanotte la penserà diversamente non credo in ogni caso che andrà su Castori ma proverà con proverà a tentare una strada diversa con un allenatore che probabilmente gli chiederà anche garanzie per il futuro al di là della serie A o della speriamo malagurata speriamo che non accada ovviamente o in caso di una malagurata retrocessione in quel caso vabbè ci sono Nicola c'è lo stesso Ranieri che è un tecnico di cui si è parlato spesso nelle ultime settimane qualche altra soluzione c'è Cosmi ma io credo che il profilo se cambia cercherà di fare un colpo cercherà di piazzare anche per la panchina un colpo però vediamo se vuole concedere un'ulteriore chance a Colantuno visto che era la prima volta di questo nuovo gruppo il problema è che per Colantuno ci sono state tante prime volte tante situazioni gli infortuni il Covid tutti gli alibi che vogliamo io per quanto riguarda l'arbitraggio non l'ho neanche come vedete non l'ho neanche menzionato perché voglio dire per i due rigori erano evidenti l'arbitro l'aveva neanche visto che ha visto il far probabilmente c'è questo dubbio su questa azione in area di rigore dello Spezia al secondo tempo anche se non è evidente questo tocco di mano e più che altro la Sernitana doveva ammaricarsi per una clamorosa occasione sprecata da Cassano all'inizio secondo tempo veramente un rigore in movimento bastava agganciare la palla sarebbe andato in rete da sola non so come ha fatto gli è rimbalzata avanti non lo so è un peccato perché era un'occasione veramente giottissima per trovare questo gol che avrebbe dato un'importante svolta a questa stagione della Sernitana comunque non è detta l'ultima parola con un colpo in quel di Genova qualcosa può ancora cambiare il calendario poi potrebbe sorridere Granata però voglio dire se non si portano a casa i tre punti possiamo fare tutte le ghiacchiere che vogliamo vediamo un po' cosa deciderà Sabatini nelle prossime ore se proseguire con Colantuno e poi se sarà toccherà ancora a lui speriamo insomma che faccia un po' chiarezza su alcune scelte e sia più illuminato in occasione nel momento in cui deciderà di scegliere l'undici che dovrà affrontare il rosso-blu in questa sfida più dispariggio salvezza veramente siamo alla fine una sfida da dentro fuori praticamente questo è quanto vediamo un po' i sviluppi delle vicende in casa Granata per quanto concerne l'allenatore ci aggiorniamo sotto questo aspetto e continuate a seguirci poi su Notizia Odaci per tutte le altre notizie dall'attualità alla cronaca agli spettacoli le tendenze del momento il gossip di tutto di più vi ringrazio sempre per il seguito che ci date anche sui social sia sulla pagina Instagram che su Facebook restiamo cioè facciamo quel che possiamo insomma per tenermi informati al meglio e soprattutto per darvi qualche informazione anche curiosa al di là ovviamente dell'aspetto sportivo inerente alla Salernitana questo è quanto ci rivediamo per le prossime sfide della Salernitana o in caso di clamorose novità alla prossima al prossimo appuntamento seguiteci su www.notiziaodaci.it sul canale YouTube e sulle pagine social e sulle pagine